Una stagione fantastica qui alla Selva Rebini, continua con questo gruppo di 2001 con 14 vittorie effettuate e una sola sconfitta, è vero, mister Penna? Sì, è stata una bella annata. Una bellissima annata che ha dato la possibilità di vincere il loro girone a questi ragazzi. Sì, è stato un ottimo girone d'andata, un po' meno a ritorno perché sono mancato per circa un mese e mezzo per polmonite e quindi hanno perso un po' quello che avevamo creato all'inizio. Però per il resto hanno portato avanti tutto con un spirito e con tanta devozione. Hanno seguito i dettagli tattici del loro mister anche se quella mancanza di un mese, un mese e mezzo? Sì, non proprio al 100% però anche se sono mancato loro hanno messo sempre il massimo impegno su ogni gara e soprattutto sugli allenamenti. Perfetto, allora ripresentiamoli questi ragazzi, partiamo dalla nostra sinistra, ti lascio il microfono Emanuele. Ho qui davanti a me Andrea Falasconi, portiere. Andrea, vuoi dire qualcosa per l'annata, per tutto quello che è successo? Portiere. Non vuoi dire niente, troppo timido. Alessio Tarantini, centrocampista. Alessio, anche tu vuoi dire qualcosa per come è andata? Ah, troppo timido, dovete parlare, dovete essere liberi, dovete pensare, ti hai detto Andrea Abbondanza, secondo portiere. Tu Andrea, vuoi dire qualcosa neanche dell'annata. Non vuoi ringraziare anche il mister Antonio per tutto quanto, l'impegno che ci ha messo sul vostro allenamento. Andiamo avanti con Federico Bisesti, centrale difensivo. Vuoi dire qualcosa per dire? No, perché tanto è timidone. Andiamo avanti. Abbiamo qui l'attaccante Pasquale Aiello. Penso che dica qualcosa. Neanche te. Vado avanti allora con Iuri e Scudero, centrocampista. Iuri dice qualcosa. Siamo i più forti. Grande, Iuri. Attento, ti chiedo niente. Leonardo. Allora, Leonardo è stato, insieme a Pachi, uno dei ragazzi che sono tra l'Itianca, già una partita con i 2002. Con i 2000, scusa. C'hai ragione. Ma lì, con i 2002 non giocavi. E come ha voluto il mister Landi. Hanno fatto un'ottima prestazione, un ottimo campionato. Vuoi dire qualcosa, Leo? No. Neanche te. Però il capitano, Federico, deve dire qualcosa per forza. Ci siamo divertiti. Abbiamo fatto un bel campionato. E speriamo che quest'altro anno ci divertiremo un'altra volta. Alessio Di Canio, centrocampista. penso, e lo confermo tanto a tutti, uno dei migliori quest'anno, come impegno, come presenza, come tutto quanto. Ale, vuoi dire qualcosa? Pure lui è timido. Lorenzo Pili, difensore. è uno dei leader della squadra. È uno che porta spirito di gruppo, simpatia a livello estremo. È tornato ad un infortunio abbastanza grave, pesante. però piano piano si sta rimettendo bene per il torneo di Milano. Vuoi dire qualcosa, Lorenzo? Niente. Omar, centrocampista, ottime qualità, grossità di tecniche. Anche lui è arrivato quest'anno in un gruppo nuovo. e posso dire che sono stato, e sono contento di tutto quello che ha fatto fino adesso. Omar, vuoi dire qualcosa? Neanche te. Tutti, è un gruppo di timidi. Riccardo, inutile che gli chiedo, Riccardo Progna, difensore, fa parte del suo gruppo da inizio anno, anche l'altro anno fa maggior parte di loro. Grosso e difensore con margini di miglioramento giorno per giorno. Spero che almeno te dica qualcosa. Sì, che siamo andati bene e abbiamo meritato di vincere il campionato. Giordano Simeoli. L'ho avuto per sfortuna quest'anno poche volte perché ha fatto un campionato con i 2000. Nel momento in cui è sceso con noi è stato sempre umile e contento di venire a far parte del gruppo del 2001. Sempre con massimo impegno. È venuto soprattutto sui tornei di Natale e quelli che stiamo facendo adesso di fine stagione. Spero che continua così come impegno e come tutto quello che ha fatto quest'anno anche i 2000. Hanno fatto un ottimo campionato e lui è stato uno dei, penso degli artefici del miglioramento dei 2000. Giordano, di qualcosa, niente. E per ultimo abbiamo Cristian Cicatiello. Lo posso dire però, Mimmo, questo è uno dei peggio. No, scherzo. Cristian sta in questo gruppo da due anni con la maggior parte, anche se 7-8 sono venuti quest'anno come nuovi. Spero che Cristian voglia di qualcosa a livello del spogliatoio e del gruppo perché è uno dei dei veterani, al senso uno che faccia parte dell'altro gruppo in cui si è unito ad altri ragazzi che sono nuovi. È che siamo un gruppo fantastico e domani cerchiamo di vincere la partita contro il Savio e portarci a casa del torneo. Speriamo, lo spero con tutto il cuore. Grazie. Allora, Emanuele, è arrivato in ritardo ma è arrivato del grosso lì. Che ruolo ha del grosso in questa squadra? Visto che è arrivato in ritardo penso starà in panchina per altri tutti i tornei, sicuro. Quali sono allora i prossimi impegni? Diceva qui Cicatiello. Abbiamo il torneo dei Fiumicino e la seconda partita contro il Savio. Abbiamo il torneo di Milano che partiremo il 12 giugno. Per quattro giorni staremo sul torneo a Vismara. e poi non so se in programma ci sono altri tornei. Ah, e abbiamo il torneo Fair Play quello organizzato dalla federazione. Facciamo molti impegni per questi ragazzi. Facciamo tanti auguri a lei, mister, a tutta la squadra e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.